Al di là di chi gioca, nei momenti importanti della stagione siamo venuti un po' meno sotto il profilo dell'attenzione, dell'agonismo e della classifica adesso è questa. Penso che la sosta è arrivata al momento giusto, comunque ci è servita per ricaricare le quile, allenarci bene. E' chiaro che in virtù dei risultati dell'altro ieri, la partita di domenica è fondamentale ed è per noi la partita della vita, dobbiamo andare lì a cercare di vincere e di lottare su ogni pallone. Sto meglio, mi si era girata prima una caviglia e poi l'altra e quindi era andata un po' particolare, ma al di là di questo non voglio trovare alibi, potevo e dovevo fare meglio. Mi alleno per stare bene, per dare una mano comunque alla squadra e rendermi utile in questo ultimo scorcio di stagione. Alla fine è due anno verso, due anno vinto di quelle che ci stavano intorno e va bene così, pure perché se ci mettiamo a guardare i risultati già dentro i spogliatori tra calcoli stiamo a diventare scemi. Penso che veramente l'unico obiettivo è essere concentrati sulla partita di Fano e poi a fine partita vedere gli altri. L'importante è fare la nostra partita, penso che bisogna tenere alta la concentrazione e sbagliare meno dove abbiamo sbagliato nelle ultime partite i dettagli. Penso che al di là della cosa tecnico-tattica la cosa più importante sarà stare concentrati, limare al minimo gli errori e vedere come va insomma. Gli alibi degli infortuni non vanno bene, dovevo far meglio quando ho giocato, è andata così dai, ci stanno annate e annate, speriamo di archiviarla con la salvezza e via.